Salve a tutti, siamo con Giova Barone, nuovo candidato consigliere del nostro progetto politico con la lista Primavera Bavolese, un candidatore che ho voluto fortemente, lo spinto in più occasioni a candidarsi perché Giova rappresenta quel lato associativo di chi si è dato da fare sia da commerciante prima, poi da semplice cittadino dopo, nelle aree più complicate di Napoli, anche qui a Bavolese ha dato una mano a quello che marca questo territorio che è l'aggregazione, quindi come figura, come status rappresenta proprio quello che noi voglio portare avanti, quello sia l'idea di riunire i cittadini a seconda anche delle categorie sociali a cui appartengono, però è importante l'unione che fa la forza, quindi parola Giova che come candidato si presenta per chi non lo conoscesse ancora la città. Come diceva Giosi, lui ha insistito molto per questa mia candidatura, io se dovessi sintetizzare una sola parola, il mio sì a Giosi su questa candidatura, la sintetizzerei in una parola, l'ho sempre pensato, direi sogno, perché sogno? Perché sogno una città dove il sindaco sia conosciuto più che per favore che ha fatto nella sua libera professione, per il cuore che mette in tutto ciò che fa. Sogno un sindaco che sia per fare rapporti sociali, perché come diceva lui io mi occupo di rapporti sociali. Sogno una città dove gli assessori addirittura non siano dei VIP, non si sentano, non cammini troppo in alto, anzi, sogno più un sindaco che si candida alla quella di una città, cammini a passo con le nuove generazioni di cuore del nostro millennium. Penso agli anziani, ai giovani, penso ai disarmi che ogni mattina si fregliano e a Bacoli devono condurre una battaglia personale per vivere, in una città che noi raccontiamo normale ma non lo è se non ci occupiamo di queste persone. Quindi dopo che lui mi ha invitato a candidarmi ci ho pensato tantissimo e mi sono offerto anche per i giovani che ho seguito anche qui a Bacoli. Sogno, continuo a sognare una Bacoli fatta da un sindaco giovane a misura di giovani. Cosa altro dire? Forse sogno troppo, però è bello anche sognare, qualche parte i bei sognatori sono quelli che segnano la loro storia scrivendo con l'inchiostro del sangue. Io vedo, poco sangue perché altrimenti sarei sognato, però vedo un cuore di giovani che veramente pusta come è giusto che pussi e mi auguro che questi battiti si siano sentiti anche altrove. Stato sociale, terzo settore, è un tema delicato che noi tocchiamo nel nostro programma, parlando della coesione, tra quelle che sono in realtà sul territorio, da quella ecclesiastica, diciamo così alzano, da quella comunale, che sono in parte anche difficili da solo ma che insieme possono dare un grosso contributo anche con la società e soprattutto con la società civile. Tutti questi che occupo qui a Napoli in particolare, in zone particolari come Scampia è veriscorrendo e qui a Napoli ho avuto un modo di farti conoscere, noi l'abbiamo conosciuto proprio con delle cooperazioni anche qui in sede, abbiamo realizzato dei progetti, dei gadget, degli incontri settimanali che hanno dato l'opportunità di capire come questa sede fosse un spazio sociale veramente aperto a tutta la città, oltre che sia la sede di Fribagoli, ma ha dato a noi l'opportunità di conoscerci ancora meglio e questa rete deve continuare. Io sicuramente i candidati devono portare dei punti alla causa, ma io sono fortemente convinto, lo siamo tutti quanti noi, vogliamo candidati che siano espressioni di idee e di concretezza, perché possiamo parlare tanto di programma, ma abbiamo bisogno di persone che quel programma lo personificano a seconda delle caratteristiche che restano, stato sociale, ambiente, lavoro e via discorrente. Quindi due parole su quello che è l'attuale stato del terzo settore, a valore sulle esperienze che vissute sul futuro che si può programmare a te e sull'amministrazione attenta a questi specifici settori. Dunque, io sono già rimasto colpito positivamente dal fatto che leggendo il programma di Fribagoli ci ho trovato questo capitolo dedicato al settore sociale. In particolare mi sono soffermato, ne parlo con qualcuno di voi, sulla parte in cui si parla delle banche del tempo. Le banche del tempo a Napoli si fanno già da 15 anni fa, qua a Bavoli mai state. L'ostretto la banche del tempo è il modo migliore per creare rete tra le persone più disabili. Quando dico disabili non dico solo fisicamente, disabili è una parola che ha molte sfaccettature, ha molti trappeggi. Detta così può sembrare un po' dispregiativa, in realtà non lo è. Come dicevi tu, io ho testato con mano la realtà bacolese anche dei giovani, soprattutto io mi occupo soprattutto dei giovani. Il giovane a Bavoli cosa c'è che a Bavoli non funziona? Secondo me il giovane ha pochi spazi aggregativi. Tra l'altro io ho iniziato ad soffrire di questa sede proprio per questo motivo, perché a Bavoli non c'è un luogo di aggregazione che non sia la villa comunale. Ed è assurdo che un giovane per incontrare altri giovani debba vedersi esclusivamente giovani. Attenzione, non sto dicendo che la villa comunale è un male, anzi, per fortuna che ci sia. Però è un peccato che non ci siano luoghi come questi, perché ha fatto un pubblico al giorno. Se un giovane decide una sera di fare un cineformo, di vedere con altri giovani qualcosa, non ha dove vederlo. Ed è assurdo che il comune non se ne sia mai occupato in tutti i miei anni verso qua. Spero che ci sia la svolta giusta per preoccuparsi di più dei giovani. Un ultimo appello ai cittadini, un appello al buono, un appello alla partecipazione. Soprattutto, io dico, è il momento di fare un salto in più. Potete cambiare la storia del bugle, perché è facile lamentarsi continuamente. Il difficile è immaginare che con una matita si può cambiare la storia di un intero paese. Trasformare un paese da chiuso ad aperto. è proprio un salto da così a così. Però si può fare. Indipendentemente se votate a me o se votate a qualcun altro, però votate con il cuore. Soprattutto nel momento in cui andate a votare sappiate che quel voto può includere la vostra vita nei prossimi 5 anni. Un saluto a tutti. Ciao, ciao.